AstronautiCast AstronautiCast, puntata 31 della stagione 9. Benvenuti amici ascoltatori e amiche ascoltatrici da Marco Zambianchi. Sono tornato finalmente tra i miei amici per un'ora e qualcosa di divertimento al timone del primo e per adesso dell'unico e quindi anche del migliore naturalmente podcast dedicato all'astronautica in lingua italiana. Ricordo a tutti che AstronautiCast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è giovedì 9 giugno 2016 e quindi non vedo l'ora, visto che ho azzeccato la partenza, di passare la parola per i saluti anche a Paolo Amoroso che ci ricorderà tutti gli altri punti che non ho volutamente elencato. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo e non ci sono molti altri punti che hai dimenticato. C'è solo da ricordare che se i nostri ascoltatori hanno domande o commenti possono usare l'hashtag AstronautiCast su Twitter, sui social oppure menzionarci su Twitter con il nostro nome utente AstronautiCast. Grazie Paolo, gli ho voluto un piacere sentirli ricordare da te. Torniamo di qua dalle Alpi, dal mio collega bavarese Michael Sacchi da Monaco di Baviera. Buonasera a tutti, grazie Marco del benvenuto e speriamo di avere un'ora è qualcosa, perché hai già previsto un'ora è qualcosa. Ma come minimo qui c'è un panel di discussione che non può darci un tempo di trasmissione minore. E a contribuire a questa ricca discussione provvede anche il nostro Riccardo Rossi da Modena. Ciao, bentrovati dopo una settimana di pausa da parte mia e quindi sono qua pronto per riprendere la mia posizione. In effetti anch'io non so se ho fatto tre o quattro settimane di distanza, ho dovuto coprire l'emergenza e i turni di un collega. Cosa posso fare? Tanti fai sempre i cavoli tuoi. Io sai, dipende. Stasera invece manca Veronica che sapendo che tornavo io ha detto ne ho avuto abbastanza se si stava così bene senza e quindi presentarsi ai nostri microfoni. E manca anche il buon Luigi. Eh sì, stavo per accennare. Luigi invece ne ha avuta una barba ormai da un pezzo e quindi centellina le sue apparizioni. Va bene, devo dire che stavamo dando un'occhiata in pretrasmissione a cosa utilizzare per animare la nostra serata ed è stata una settimana, dobbiamo dire, piuttosto tranquilla. C'è stata un po' di attività spaziale, infatti abbiamo visto il modulo BIM che ha prodotto anche un'interessante discussione sul forum astronautico e poi diamo un'occhiata anche a cosa succede in casa Roscosmos con qualche incognita, qualche problemino sulla nuova Soyuz, la Soyuz MS-01. Questo nuovo modello, questa nuova iterazione della sempreviva o come si può dire, sempiterna, ecco giusto perché parlavamo di lui, capsula per il trasporto di equipaggio dell'Unione Sovietica prima e della Russia oggi. Probabilmente è pigliata a nessuno questa notizia che abbiamo sul nostro docket, potremmo dare un accenno anche a Lisa Pathfinder, vediamo un po'. E poi seguono le rubriche che tanto i nostri ascoltatori amano. Ma allora ragazzi, volete che rompa io il ghiaccio parlando di BIM? Possibilmente solo il ghiaccio. Va bene, allora partiamo con BIM, questo modulo che era stato lanciato lo scorso 26 di maggio, scusate che era arrivato lo scorso 26 di maggio e che tutti aspettavamo di vedere gonfiato, anzi no, non si può dire gonfiato, espanso e magari finalmente abitato. Si è dovuto aspettare qualche settimana, ma finalmente lo scorso 7 giugno, scusate sì, lo scorso 7 giugno, sono stati aperti, è stato aperto il portello che per la prima volta ha visto entrare Jeff Williams e il suo collega Oleg Skripoczka all'interno del modulo costruito da Bigelow Aerospace. Cosa c'è di così particolare? Sono sicuro che ne avete già discusso negli episodi precedenti, cioè che la tecnologia dei moduli espandibili ci consentirà di trarre nello spazio oggetti che sono fisicamente molto più piccoli dei moduli che fino a oggi o fino a qualche tempo fa erano stati lanciati o con i classici razzi vettori oppure con lo Space Shuttle. Infatti BIM, una volta lanciato, occupava solo un quarto del volume che invece sta occupando ora una volta espanso. Erano le 10.47 del 7 giugno quando Williams ha fatto ingresso nello scuro e angusto spazio che si è reso disponibile dopo l'espansione della settimana precedente. Cosa è stato fatto? Beh, intanto una verifica accurata della tenuta stagna che è durata circa 80 ore, questo prima dell'ingresso. E poi, una volta entrato, Williams ha constatato che tutti gli elementi che erano presenti non presentavano particolari segni di usura o guasti. C'era una temperatura piuttosto fredda in quanto il modulo è relativamente semplice. Ci sono una serie di sensori sparsi all'interno di BIM, però non c'è un vero e proprio sistema di riscaldamento, così come non c'è un sistema autonomo di ricircolo dell'aria. I due astronauti si sono limitati a raccogliere i dati dei sensori che hanno monitorato le fasi dell'espansione del modulo e poi gli atti a Bigelow Aerospace per ulteriori analisi. Alla fine, dopo aver accertato che le bombole d'aria compressa che erano state usate per completare la pressurizzazione del modulo fossero vuote, il portale è stato nuovamente richiuso dopo una curata pulizia della parte con le guarnizioni. La curiosità, correggetemi o fermatemi se ne avete già parlato, è stata quella che ci si è accorti nel momento in cui si voleva predisporre il circuito di ricircolo dell'aria all'interno di BIM che di fatto è formato da due semplici tubi, uno che inserisce l'aria in BIM e l'altro che la estrae, è un po' come succede con i moduli russi, ecco in questo momento ci si è accorti che mancava un raccordo, la parte finale che consentiva appunto di agganciare i bocchettoni dell'aria di BIM con il circuito di ricircolo della stazione. E allora un po' memory di quello che era stato fatto su Apollo 13, sul modulo lunare di Apollo 13, quando si trovò la soluzione per utilizzare trucce al carbone attivo di forma quadrata nei fori rotondi dell'EM, con quei materiali che erano già disponibili a bordo, gli astronauti dopo alcune prove fatte dai colleghi a terra hanno di fatto assemblato un adattatore di fortuna, tra virgolette, che ha consentito di completare l'installazione anche di questa parte. Insomma, Mark Watney ha fatto scuola e ancora una volta la realtà è stata interessante più, se non addirittura della fantascienza. Tutto quindi a posto, ho ascoltato più volte il video di presentazione dell'installazione del modulo BIM e dell'apertura del portello e se non ho capito male, ma i nostri ascoltatori sono liberi, anzi invitati ad andare sul sito astronautnews.it dove c'è la notizia che stiamo commentando, se non ho capito male, saranno solo 6 o 7 gli ingressi previsti nel corso dell'anno e anche perché il portello non è esattamente identico a quello della stazione, è un portello più piccolo, quello di BIM, e se gli astronauti non stanno svolgendo attività di monitoring all'interno, viene chiuso, non è di fatto utilizzato, almeno in questo momento, per attività di stoccaggio o per qualsiasi altro esperimento che non sia la validazione del modulo stesso. Quindi, nulla, potrei aver avuto un problema uditivo? Non credo, io ho capito 6 to 7, altrimenti saranno 67, quindi o sono 6 o 7, o sono 60. Ma anche guardando l'interno del modulo si capisce che è difficile adattarlo a utilizzi normali sulla stazione spaziale, magari per riporre materiali. Si vede che è proprio un ambiente spartano con poche attrezzature all'interno e soprattutto con poche possibilità di agganciare dei rec, degli esperimenti, o anche soltanto dei supporti per tenere delle scorte e quindi usare come magazzino questo modulo. È effettivamente soprattutto un esperimento, un esperimento di tecnologia spaziale che ha l'aspetto di un modulo abitabile. Almeno in questa missione, insomma, il suo scopo primario sarà quello di ospitare dei sensori per raccogliere tutti questi dati e misure che serviranno poi in futuro per creare veri moduli da utilizzare come parte integranti di astronavi e veicoli spaziali. Quindi in modo che possano essere abitati e usati dall'equipaggio per vivere e lavorare. Vero Paolo. Tra l'altro, quando seguivo la discussione sul farum astronautico riguardo questo articolo, ho avuto modo di fare una cosa che faccio spesso, che è quella di cercare sul web più informazioni e in particolare qualche PDF, perché i funzionari NASA svolgono varie presentazioni in vari eventi che possono essere ufficiali oppure dedicati agli addetti ai lavori in cui fanno un po' il punto della situazione riguardo lo sviluppo di molte tecnologie. E sono riuscito a trovare un PDF del 2010 in cui ho visto un altro possibile utilizzo o approccio alla tecnologia dei moduli espandibili che, mentre noi tutti abbiamo scherzato sulla differenza tra modulo espandibile e modulo gonfiabile, beh, questo, il BIM, così come lo vediamo installato oggi sulla stazione, secondo me può tranquillamente essere chiamato modulo gonfiabile. Ma è una mia opinione personale. Ma in questo PDF c'era un concetto di utilizzo molto interessante e cioè che ha un modulo non molto più piccolo di quelli cilindrici attualmente lanciati con i mezzi che chiamiamoli tradizionali. Ecco, sulla parte esterna come se fossero avvolte intorno al cilindro centrale si trova naturalmente al momento del lancio ripiegato ma poi una volta ritrovato, una volta inviato nello spazio, una volta arrivato a destinazione si trova una sorta di camera d'aria che è stata dello stesso materiale di BIM e che quindi che in tutte le direzioni semplicemente aumenta il diametro del modulo disponibile. Questo ha il vantaggio, e anche questa è una cosa che era emersa nella discussione, di mantenere al suo interno un core, tra virgolette, solido, che offre magari un'ulteriore protezione agli astronauti in caso di utilizzo di un modulo simile nel corso di un modulo simile dove abbiamo detto molte volte si è speculato anche sempre sul forum rispetto a una possibile spedizione marziana dove un modulo abitativo ampio potrebbe essere fondamentale per il benessere degli astronauti. Ecco, una situazione del genere in cui all'interno si riuscisse a creare una zona seppur con il scudo dalle radiazioni comiche che sono il più grande ostacolo attualmente all'esplorazione marziana potrebbe essere davvero interessante e mi ripropongo di ripescarlo e poi di metterlo nelle note dell'episodio questo non lo trovate nell'articolo. Un'ultima cosa invito i nostri feticisti dei moduli espandibili a dare un'occhiata anche all'altro articolo che avevo scritto in precedenza e che sono sicuro è stato usato nelle puntate scorse perché se vi siete persi le fasi di espansione di BIM in tempo reale ho recuperato e tagliato tutto quanto riunendo in un unico file le dieci ore abbondanti di commento all'espansione di BIM quindi se avete una serata difficile in cui vi viene difficile addormentarvi credo di avere trovato la cura che può fare al caso vostro. Oppure si può usare come video ambientale magari in un luogo pubblico invece di mettere la solita musica si può si può trasmettere quello. Ah sì sì e questo un po' insomma stiamo veramente quello che rimane da fare per gli astronauti è continuare come dicevi Paolo le campagne di monitoraggio cioè che gli ingegneri di Bigelow continuano ad aspettarsi naturalmente che gli astronauti facciano ingresso in BIM e dopo che tra l'altro credo che lo scorso mercoledì siano stati installati al suo interno un'altra serie di sensori dedicati al montaggio di temperatura a livelli radioattivi e soprattutto segnali di microimpatti e anche questa è stata una cosa interessante discussa molto sul forum quindi ci saranno ulteriori dati da raccogliere. A me tra l'altro è sembrato tutta un'attività estremamente manuale anche il fatto che gli astronauti siano dovuti entrare per raccogliere che cosa forse qualcosa di fisico perché a quanto pare la telemetria raccolta dai sensori già presenti al momento dell'espansione non è andata giù con la telemetria radio altrimenti che senso avrebbe avuto schedulare un'attività del genere e poi un'altra cosa che mi ha colpito è che di fatto il povero Williams ha sacrificato un vero un candle per svolgere gli espansioni che dovevano probabilmente occupare solo qualche ma anche vedere Williams ruotare manualmente la manopola la valvola per far entrare ossigeno aria nel modulo da pressurizzare e contando mentalmente i secondi di apertura richiesti dal controllo missione è sembrato quasi un modulo fai da te un esperimento quasi da bricolage spaziale già il denaro magari risparmiato anche se non credo il punto necessariamente in automazione e relay ti è stato bruciato tutto il costo di un'ora astronauta a volo dell'AzS insomma 12 ore del tempo di Williams va bene che sono finite nel suo tempo libero buona parte di queste però è stato un bel costo in termini assoluti mettere in piedi questo ma questo ci dà anche un'indicazione secondo me interessante dal punto di vista tecnologico ci fa vedere la relativa semplicità delle operazioni con questa tecnologia i materiali sono altamente sofisticati sicuramente ma il modo di controllare di manovrare di agire su questa tecnologia è relativamente semplice vero ehi se i nostri altri due esimi colleghi non vogliono intervenire sull'argomento abbiamo pronto sul piatto d'argento per i nostri ascoltatori l'argomento interessante della nuova Soyuz che tra l'altro sarà la sua numero ma come modello che sarà utilizzata da Paolo Nespoli il prossimo anno per la sua spedizione numero due sulla stazione spaziale internazionale Paolo eccolo la la nuova Soyuz si chiama Soyuz MS ed è il modello che segue l'attuale quella che è stata utilizzata fino a questo momento la Soyuz TMA usata per esempio per le missioni anche dei nostri Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti il primo esemplare di questa nuova Soyuz si chiama Soyuz MS 01 e il suo lancio era stato programmato inizialmente per il 24 giugno 2016 ma già nei primi giorni di giugno avevano cominciato a circolare alcune voci di un rinvio di questo lancio di un rinvio al 7 luglio voci confermate poi ufficialmente il 2 giugno dalla commissione di stato anzi il 6 giugno scusate confermate ufficialmente dalla commissione di stato russa che ha annunciato che la nuova data di lancio è il 7 luglio qual è la ragione di questo rinvio la ragione era dovuta ad alcuni risultati non soddisfacenti di alcuni test e simulazioni secondo le quali durante le fasi di avvicinamento e attracco della Soyuz alla stazione spaziale si sarebbe potuto verificare un movimento di rollio non compensabile e non controllabile dai computer di bordo inizialmente si era sospettato un problema software era stato aggiornato il software di controllo ma il problema era rimasto questo aveva indotto i tecnici e poi la commissione di stato a cercare un po' più di tempo per risolvere e indagare meglio questo problema normalmente un rinvio di un lancio di un veicolo Soyuz che sia un lanciatore o una capsula ha una serie di conseguenze almeno per il programma della stazione spaziale ha una serie di conseguenze a catena si rinviano eventuali lanci di veicoli cargo progress derivati quindi dalla Soyuz e anche si rinvia normalmente la data di rientro dell'equipaggio dell'incremento della Soyuz attualmente sulla stazione spaziale in previsione dell'arrivo del nuovo equipaggio sono stati confermati quasi tutti questi rinvii innanzitutto abbiamo detto che la nuova Soyuz la MS-01 sarà lanciata il 7 di luglio è stato spostato anche il lancio del cargo progress MS-03 che era stato inizialmente previsto per il 7 luglio al 17 luglio ma la cosa che è stata un po' sorpresa e discussione è che l'equipaggio della Soyuz attualmente a bordo della stazione spaziale dell'incremento che doveva rientrare a terra rientrerà secondo la data prevista attualmente per il 18 di giugno del 2016 si tratta l'equipaggio della Soyuz TMA-19M con l'astronauta europeo Tim Peake ad è stata sorpresa ne abbiamo discusso anche sul forum perché si cerca di non lasciare per molto tempo per più delle solite due settimane circa in cui per il rientro di un equipaggio a terra la stazione spaziale rimane con tre soli astronauti a bordo dicevo si cerca di ridurre al minimo questo periodo perché se ci sono la metà dell'equipaggio normale sulla stazione questi astronauti devono dedicare più tempo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione e quindi meno tempo agli esperimenti e alla ricerca scientifica che è lo scopo principale per cui è stata costruita la stazione per questa stessa ragione la nostra astronauta Samantha Cristoforetti si era vista prolungare di alcune settimane la sua missione futura l'anno scorso nel 2015 rientrando l'11 giugno invece che all'inizio di maggio come inizialmente previsto in quella occasione la ragione era stata l'incidente a un cargo automatico progress che aveva avuto anche in questo caso conseguenze sul lancio dell'equipaggio successivo quindi faranno parte dell'equipaggio successivo della Soyuz MS-01 il cosmonauta russo Anatoly Vanishin il comandante l'astronauta giapponese Takuya Onishi e l'astronauta della NASA quindi l'astronauta americana Kathleen Robbins invece Tim Peake rientrerà come previsto insieme con Tim Copra e il comandante della Soyuz TMA 19M Yuri Malenchenko il 18 di giugno come previsto Tim Peake in realtà aveva già avuto un'estensione della sua missione che avrebbe dovuto rientrare nel suo equipaggio che avrebbe dovuto rientrare inizialmente il 5 di giugno del 2016 probabilmente è un po' dispiaciuto per non aver avuto un'estensione della missione come quella di Samantha ma chi deve essere più dispiaciuto è l'equipaggio della Soyuz MS-01 perché quando un equipaggio Soyuz parte con un rinvio la durata della sua missione sulla stazione viene accorciata a meno di altri imprevisti che potrebbero esserci e potrebbero a loro volta far rimandare il loro rientro a terra per il momento quindi le date sono queste lancio della Soyuz MS-01 il 7 luglio e della Progress MS-03 il 17 di luglio ma quali sono le differenze di questa nuova Soyuz rispetto alla versione precedente la TMA innanzitutto c'è una differenza esterna che dovrebbe essere facilmente visibile cioè ci sono dei nuovi pannelli solari più efficienti che quindi dovrebbero avere una superficie maggiore ma poi ci sono una serie di novità nell'avionica nei sistemi elettronici di bordo di questa capsula per esempio la capacità di trasmettere la telemetria con un sistema di trasmissione dati simile al TIDRIS americano che quindi dovrebbe dare una maggiore continuità nell'acquisizione dei dati telemetrici nuovi sistemi elettronici del sistema CURS di avvicinamento e attracco e anche un nuovo computer di bordo che pesa quasi un ordine circa un ordine di grandezza in meno del precedente poco più di 8 kg contro i 70 kg quindi una serie di migliori questa volta a transistor a transistor i circuiti integrati forse nel nuovo veicolo federazia adesso non ce la ridiamo dai questa cosa del peso è fondamentale cioè se ci sono quasi 70 kg risparmiati pensate anche voi il carico utile che magari si può peso e volume peraltro sì sì che si possono aggiustare agli astronauti per poter visto che a parte il dragon non c'è niente che riporti a terra del materiale pesante chiaramente non si possono portare a terra oggetti dell'ordine di grandezza come faceva lo shuttle però almeno insomma 70 kg sono tanti sono proprio tanti sì e soprattutto non solo per i campioni per esempio biologici degli esperimenti ma in alcune occasioni per esempio si guastano alcuni componenti o di tute spaziali o di impianti di bordo che devono essere portati a terra per essere studiati dai tecnici dai tecnici delle agenzie spaziali quindi avere maggiore peso e volume per riportare a terra del materiale è sicuramente una un'opportunità molto utile e accennavi prima Marco che l'anno prossimo nel 2017 volerà anche il nostro astronauta Paro Nespoli anzi sarà il primo degli astronauti italiani a utilizzare questa nuova Soyuz e quindi si sta addestrando immagino per questa missione per questo nuovo tipo di veicolo lui ha saltato una generazione di capsule Soyuz aveva volato su una TM su una Soyuz TMA come modello invece Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti sulla versione TMAM quindi aspettiamo di vedere come si comporterà questa nuova Soyuz in volo a me fa un po' incuriosire come abbiano scoperto una cosa di questo genere quando hanno un modello non un modello ma hanno un esemplare che era pronto a partire tra un mese in avanzato stato di realizzazione è una di quelle cose non hanno una Soyuz in orbita che ha evidenziato un particolare movimento che potrebbe avere dei problemi durante il docking hanno una Soyuz che è uguale alle stesse capacità di simulazione della microgravità che aveva un po' di carri segnato della Soyuz non capisco perché questa cosa è uscita adesso mi sembra la descrizione del problema mi sembra incompatibile con lo stato di realizzazione della capsula cioè in fase di progettazione avrebbe dovuto o comunque di test iniziale avrebbe dovuto apparire questo problema dici? non lo so non sono un esperto però mi sembra non credo che nulla di quello che stiano facendo adesso con l'esemplare costruito della Soyuz possa evidenziare una cosa di quel genere magari non ho assolutamente idea sto parlando fuori tempo ma non tutto sommato non mi sorprende perché teniamo conto ne parlavamo prima che questa capsula ha un'avionica completamente nuova un computer completamente nuovo dei sensori quindi le antenne del sistema CURS ne parlavamo completamente nuove quindi non mi meraviglio che in una fase così avanzata possano essere identificati problemi come questo sì no probabilmente hanno fatto dei test di integrazione sul primo modale che vola che è atipico può essere non lo so in questa settimana un'altra che così legata allo spazio che mi ha colpito che mi sono trovato a leggere è stato questo report che è arrivato dall'agenzia spaziale giapponese riguardo alla perdita del satellite itomi e si sa un po' si è trovata la smoking gun in una serie di problemi però l'analisi e l'elencazione di tutte le anomalie o di tutte le cose malfatte sostanzialmente è inutile raccontarci qualcosa di diverso sia in fase di design che in fase di mi ha lasciato particolarmente colpito perché di solito ci sono comunque delle cosiddette lesson learned che all'interno delle missioni si riguardano si cerca di fare proprie prima di iniziare una nuova missione non lo so quello che voglio dire è che non mi stupirei se qualcosa fosse sfuggito forse il controllo di qualità in questi tempi un po' difficili per l'agenzia spaziale russa non si è un pochettino pagandolo sotto di non avere risorse a sufficienza quando si vanno a mettere in pratica tecnologie nuove finché si tratta di costruire l'ennesima Soyuz TMA voglio dire che il personale è veramente trainato e hanno sicuramente le procedure già sperimentate validate da decine e decine di lanci qui ci sono hardware e magari anche procedure di assemblaggio installazione test del software acceptance test cioè test di accettare da aziende per la costruzione di sottocomponenti della Soyuz che non sono così assodate speriamo che sia stato semplicemente un early warning di qualche bravo ingegnere che ha deciso di sollevare il problema e mettere uno stop al lancio ricordo tra l'altro naturalmente sperando che non ci sia nessun legame con la Soyuz visto che trasporta esseri umani ma ricordo che il primo Ariane 5 dell'agenzia spaziale europea esplose poco dopo il lancio per un errore di software se non ricordo male perché ci fu un overflow con un campo integer che non era abbastante nè il numero che poi è arrivato durante il volo quindi ha assunto un valore negativo che ha mandato completamente fuori di testa il computer se non sbaglio era un cast da float a integer qualcosa del genere io ho detto di usare PHP che così non c'è non c'è bisogno di fare la dichiarazione per forza delle variabili via direi un Python che fa import spaceflight e funziona tutto c'è la libreria che fa tutto non devi preoccuparti qualcun altro l'ha fatto esatto esatto comunque Mike potrebbe essere così non capisco Mike come tu possa dire che i tecnici non stanno facendo assolutamente nulla per poter sistemare il problema la Soyuz penso ai gommisti che quando non so fanno la convergenza delle ruote vedono che ballo un po' ci mettono due piombini è fatto anche la Soyuz ci mettono due piombini e poi non c'è più il problema di rollio durante la tracco che problema c'è c'è da fare solo qualche simulazione per sapere dove mettere questi tu dici che l'hanno messo su qualcosa che gira e hanno visto che deviava un pochino esatto mi è venuto in mente quando avevi fatto passare l'immagine della Soyuz appesa ovviamente no vengono fatti un sacco di test sugli articoli sull'articolo di volo ma però sembra un da come ha descritto nell'articolo un problema di di fondo e non su questo specifico esemplare però magari tutto tutto può essere può anche essere più che un esempio del controllo qualità che funziona magari anche un esempio di eccesso di zelo dal punto di vista del controllo qualità nel programma spaziale russo come effetto delle insomma questo paura ogni volta che c'è un errore più o meno grave che invece di migliorare i processi insomma si fanno si fanno tuonare minacce e test che cadono e cose del genere test che rotolano insomma c'è sempre questa dialettica abbastanza violenta tra virgolette dei dirigenti russi magari questo potrebbe essere semplicemente un segnale per dire abbiamo una cosa che forse è un problema ma probabilmente no in futuro in passato gli avremmo dato due piombini a posto questo fargli vedere che siamo come la NASA che con la tribu electrification ci ha posticipato mille lanci non lo so questa cosa Mike che accennavi tu so di averlo già detto in passato ma è l'antico è questo clima che si sta creando un po' da bullo di quartiere anche all'interno dell'ambiente della Roscosmos tra l'altro ho visto che gli ultimi lanci compreso quello dal nuovo Cosmos presidente in persona boh non lo so sta assumendo i termini della farsa ma qua scivolo nel politico forse e quindi fermo però non fa tanto bere nel fratef e l'ho messo su ho incontrato nella nostra chat segreta così il buon Riccardo che da anni prepara le note della trasmissione già lo potrà andare ad inserire va bene credo che siamo arrivati quasi in fondo avevo dato un'occhiata al discorso di Lisa Pathfinder che voglio accennare perché è davvero interessante Lisa Pathfinder è una credo è almeno molto interessante perché davvero racconta i termini che si sta con i satelliti per la validazione delle teorie cosmologiche più recenti in particolare la scoperta delle ore in grande qualche cosa che ormai è stato acquisito tra l'altro a terra con l'esperimento LIGO e va benissimo meglio nel senso che ora sappiamo che non stiamo inseguendo una chimera ma la misurazione di queste onde in un ambiente più favorevole che è un collo spaziale è un obiettivo prima dell'annuncio della scoperta delle onde gravitazionali aveva mandato nello spazio questo Lisa Pathfinder che questa sua seconda parte del nome questo Pathfinder riguarda proprio il fatto che l'obiettivo di questa piccola missione è la validazione dello strumento scientifico che deve essere imbarcato su Lisa che sarà la missione non ancora partita per la misurazione vera e propria delle onde gravitazionali un po' come vuol dire abbiamo crediamo aver inventato la bilancia vogliamo sapere esattamente quanto precisa la nostra bilancia è quanto riusciamo a validare il design che abbiamo pensato per misurare queste onde lo mandiamo una piccola bilancia in scala nello spazio vediamo come si comporta ebbene questi bracci della bilancia in realtà sono due cubi di materiale ricoperti in or di 46 mm ciascuno e soprattutto al test riguardava la capacità di misurare la distanza tra oggetti ce ne saranno altri all'interno degli strumenti di Lisa ma naturalmente un design così innovativo non riguarda solo lo strumento di misura in sé ma anche la capacità per esempio di controllare in maniera minuziosa i movimenti del satellite per cui ogni vibrazione ogni azione meccanica esterna è indotta sui due pesi crea una falsa lettura un disturbo un rumore per così dire l'esperimento che vuole eliminare ebbene già il primo giorno dopo il lancio la valutazione della precisione di Lisa Pathfinder aveva raggiunto i requirements quindi il minimo il minimo indispensabile di precisione previsto in fase di design per Lisa Pathfinder stesso e ha ecceduto di gran lunga di 5 volte il limite di design della missione Lisa quindi cosa è successo essendo stati così veloci a raggiungere il livello di precisione minima richiesta in queste settimane in questi mesi in cui Lisa Pathfinder sta volando gli scienziati e i tecnici si stanno adoperando per raffinare al massimo la tecnologia alla base di questa bilancia particolare e in effetti devo dire che a ESOC ci sono le due stanze accanto alla main control room che dal giorno del lancio di Lisa Pathfinder non sono mai state abbandonate da un gruppo internazionale di studiosi che in tempo reale mentre il flight operations team controlla satellite analizzano collezionano e analizzano in tempo reale e sul posto i dati di Lisa Pathfinder che comunque è una missione destinata ad avere una breve durata ma per comprendere quanto deve essere precisa la misura di questo strumento ecco deve essere in grado di misurare lo spostamento relativo tra le due masse di T che significa attenzione non si scrive Fmt mi raccomando taglio le mani un milionesimo di un miliardesimo di metro quindi è qualcosa che ha 369 12 zeri è una frazione di un raggio atomico fondamentalmente quando si tratta di sistemi di guida sistemi EOCS Lisa Pathfinder è in grado di essere 10.000 volte più stabile in posizione di quattro si è lanciato a fin di fatti conosco questo dettaglio perché Lisa Pathfinder imbarca lo stesso design di attuatori a micro traster che è stato adottato per Gaia che è un altro satellite per cui la fortuna di lavorare e che ha la necessità di contenere in maniera assoluta le vibrazioni meccaniche impartite sul corpo del satellite oltre che le oscillazioni termiche le richieste al suo 6D e quindi questa esperienza fatta su Gaia è stata incorporata e migliorata tra l'altro nel design di Lisa Pathfinder naturalmente troverà posto anche nel design di Lisa Parliamo molto uno dei miei cruci personali è quello di far conoscere a tutti voi amici ascoltatori che capite l'italiano quantomeno se non siete italiani che abbiamo un'agenzia europea abbiamo un'agenzia continentale che fa cose meravigliose con un budget relativamente ridotto e quindi date un'occhiata per chiudere con una cosa al blog di Lisa il blog di Lisa Pathfinder dove trovate aggiornamenti in tempo reale relativamente in tempo reale sulla missione e niente stiamo davvero aumentando sempre di più la capacità di osservare fenomeni più sfuggenti per la loro stessa natura sono veramente contento che i colleghi abbiano centrato questo obiettivo così importante è una una lotta contro una sorgente di rumori che è il nostro universo lo scopo di Lisa Pathfinder è osservare dei segnali che sfuggenti li hai chiamati Marco ma sono invisibili non sono qualcosa che normalmente percepiamo perché una deformazione dello spazio-tempo significa che anche i nostri sistemi di riferimento ovviamente vengono variati di conseguenza ed è difficile misurare qualcosa di dimensioni mentre misura qualcosa quindi l'unico modo è mettere due cose diverse a distanza e misurare la loro distanza con sistemi il più possibile non influenzati da questo cambiamento o sfruttando il fatto che la distanza delle due masse viene variata come il laser appunto ma non è soltanto la misurazione il problema è la non misurare tutto quello che succede a queste masse che è di ordine di grandezza completamente maggiore rispetto al segnale e si parla di spostamenti dovuti a interazioni elettrostatiche tra il cubo in questo caso i due cubi dentro l'EASA Pathfinder e le pareti del contenitore per quanto siano nel vuoto e nel nel più possibile scaricati elettrostaticamente ci potrebbero essere delle piccolissime cariche che vanno a sommarsi le piccolissime particelle di atmosfera rimaste all'interno di questo contenitore potrebbero colpire periodicamente le pareti o i cubi stessi andando a sommarsi come in maniera neutra quindi non spostando il cubo ma andando a avere delle piccole oscillazioni attorno a un equilibrio che potrebbero assomigliare al segnale che stiamo cercando ovvero una distanza una variazione tra i due cubi è affascente stavo leggendo un articolo su Spaceflight Now è un elenco di queste fonti di disturbo che sono state tenute in considerazione e annullate ovviamente non si possono evitarle completamente però si possono modellizzare e poi andarle a togliere dalla misurazione di modo che quello che rimane è effettivamente il segnale misurato e quindi lo scopo la vittoria di Lisa Pathfinder che è già una vittoria non è soltanto il dimostrare che è possibile aggiungere questo tipo di precisione o meglio superare le 5 volte più alte dei requisiti ma anche di dare una quantificazione di questi disturbi che sono probabilmente già ipotizzati a livello teorico ma poterli misurare effettivamente non si stanno misurando le onde gravitazionali ma si stanno misurando tutti quegli effetti che non ci permettono di misurarle chiaramente e quindi questo fa di Lisa Pathfinder non soltanto un relatore tecnologico ma un vero proprio laboratorio si sta già facendo della scienza non è soltanto una preparazione della missione di Lisa o Evolved Lisa come si arriverà a quella missione è tutta un'altra storia perché è un'altra un'altra lega per quanto fantascientificamente complicata sia Lisa Pathfinder per Elisa si parla di tre diversi satelliti tre masse a svegliati chilometri di distanza qualcosa come tre milioni di chilometri l'uno dall'altro quindi un triangolo di satelliti in orbita solare che misurano la loro distanza reciproca il costo di quella missione è attualmente previsto tra gli 1 e 2 miliardi di euro lancio previsto nel 2034 quindi aspettatevi gli euro raddoppiati e la data spostata verso destra di qualche decennio ma quando ci si arriverà si arriverà ad avere qualcosa che è molto di più un passo avanti nella cosmologia con il copio non è come avere un telescopio che va puntato contro qualcosa per studiare qualcosa avere un rilevatore di onde gravitazionali come quello di Elisa è come avere un microfono nel mezzo del sistema solare che può captare cose da tutto l'universo quindi potrebbe essere in grado di rilevare due buchi neri che si sommano insieme come è successo con l'igo ma anche ad esempio cose a una frequenza molto più bassa quindi due buchi che causano delle onde gravitazionali con una frequenza talmente bassa che non è misurabile perché è una variazione nell'ordine del dicevano 0,1 millihertz quindi siamo nell'ordine di grandezza dei giorni però questo modo di acquisire i dati con la metafora del microfono che citavi prima mi ricorda un po' le prime emissioni di astrofisica delle alte energie dei primi satelliti X in cui non c'era un'acquisizione direzionale della radiazione elettromagnetica ma si avevano dei conteggi cumulativi senza capire se non in maniera molto rosa con dei contatori montati come si dice a coincidenza per avere una idea generale della parte di cielo da cui provenivano neanche la direzione lo stesso principio di funzionamento Paolo a cui volevo arrivare me l'ero preparata ma tu mi hai fatto l'assist per Integral che misura raggi gamma provate a focalizzare i raggi gamma su un CCD con cosa ricuvate qualunque cosa è come fare una super radiografia attraversano qualunque tipo di superficie concava o conversa che potete cercare di usare per focalizzarli da qualche parte allora cosa si fa tutto lo strumento è ricoperto tutto il satellite è ricoperto di sensori naturalmente si punta più o meno la superficie con 19 grossi esagoni di Germania verso la sorgente si sa più o meno dove sta ma siccome il bombardamento gamma arriva da tutte le parti lo si misura ovunque e poi si sottrae quello che non si vuole ascoltare si butta via tutto quello che non si vuole ascoltare si sente solo quello che è entrato con una certa direzione da una certa posizione si va a sottrarre insomma dalla chat fa notare Matteo che un microfono con una una risposta in frequenza di un decimo di hertz sarebbe molto interessante per astronauti cast astronauti cast pathfinder esatto dove path non sta per pattumiera però mi raccomando allora 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 che abbiamo esaurito le news nel nostro doc che non sconfino fra una che sono rimasta nella vostra personale news doc nella vostra testa Mike io ho dato un'occhiata alle donazioni e iscrizioni su paypal e credo che non ce ne siano di recenti ma giusto perché non so a che punto siete arrivati con le scorse puntate che ahimè confesso di non aver ancora ascoltato le vado a ricordare solo che nel mese di maggio abbiamo ricevuto faccio tutto il mese di maggio non abbiamo per quanto riguarda si concordo scusate abbiamo ricevuto le nuove iscrizioni di Luca che in realtà iscrive Maria Beatrice di Massimiliano di Onofrio che ringrazio anche per le sue mail che le riceviamo e leggiamo sono lì nella coda enorme di cose che ho da rispondere ma ho letto tutto quanto e complimenti per le varie attività e poi per ultimo Gian Paolo che si è iscritto lo scorso 24 maggio per quanto riguarda le donazioni ricorrenti abbiamo il nostro Denis il nostro Gian Pietro il nostro Davide che anche lui Davide ci ha scritto un paio di volte Davide non ti preoccupare giuro che ti rispondo sono state settimane complicate grazie anche loro per il loro contributo di 3 e 5 euro e tutti loro fanno fanno del loro meglio per dare una mano la nostra associazione a raggiungere scopi sociali ma anche per pagare le bollette che materialmente tengono su i server di tutti i nostri siti forum astronautico astronauti il sito istituzionale di isa il sito di strato spera non riusciamo a fare lanci da un po' ma chissà mannaggia riusciremo a trovarci un ritaglio nella nostra vita reale per rimettere in piedi il team e così come a organizzare le astronauti con e da questo punto di vista ragazzi vi prometto vi do la mia parola ci stiamo veramente mettendo la miglior volontà possibile per organizzare un evento col botto avremo spero presto aggiornamenti da questo punto di vista e quindi se potete accettiamo molto volentieri i vostri contributi monetari ma naturalmente se non volete o non potete invece contribuire con qualcosa di pecuniario va benissimissimo un commento una ricondivisione dei nostri contenuti sui social una chiacchietta davanti a una birra insieme con questo amico preferito che sapete ha un vago interesse per la scienza per le cose voi tac come delle faine vi buttate e gli fate due maroni così parlando di spazio e perché invitandolo sui nostri sui nostri siti ogni tanto lo faccio anche io al lavoro perché incontro qualche collega italiano e parlo di Isa perché non tutti conoscono Isa pur lavorando nell'ambiente spazio non mi accetto nella casa quattro e a metà mi do conto che ho perso questa persona che sta guardando fuori dalla finestra considerato che lavoriamo sottoterra principalmente è una cosa abbastanza complicata da fare e non funziona quindi cercate di essere più convincenti da sottoscritto volevo ringraziare Gianpaolo che giusto per chiudere visto che abbiamo salutato i nostri donatori e nuovi soci che si è iscritto a Isa ho un sistema di invio di benvenuto quando regito i miei membri e ho aggiunto nell'ambiente di benvenuto l'indirizzo a cui intendiamo inviare la tessera perché è successo in passato che qualcuno usa un indirizzo diverso in Paypal ne abbiamo già parlato quindi per controllo metto l'indirizzo tac mi ha beccato subito che l'ho sbagliato a scrivere e mi ha me l'ha corretto e ha approfittato per dire che si è iscritto a Isa soltanto per ringraziarci del nostro lavoro con Astronauticast è una delle fan mail più comuni che ti dicono mi sono iscritto perché Astronauticast questa cosa mi rende il cuore pieno di gioia e quindi voglio ringraziare Gianpaolo c'è anche la fan mail di Massimiliano citato poc'anzi comunque da Marco che dice di solito non scrivo mai ma ci tengo a farvi sapere che i vostri sporsi la vostra passione sono molto apprezzati quindi complimenti andate avanti così un saluto a tutti trovo molto utile le novità di quest'anno dal sommario alla presenza di Veronica benvenuta e alla sua rubrica il calendario degli eventi eccetera ppps mi avete fatto rispolverare dalla cantina un'agenda con ritagli di giornale del primo volo shuttle a quanto mi manca con Young e Krippen grazie ancora grazie a te come ti capiamo come ti capiamo l'abbiamo detto in apertura questa settimana in realtà non succede quasi mai però questa settimana quando abbiamo dato un'occhiata ad astronauti per pescare e qui arriva l'ultimo dei ringraziamenti per pescare gli articoli da usare questa sera nella diretta ricordo che tutto quello che noi commentiamo si basa su articoli preparati da un gruppo di articolisti volontari che non solo non percepiscono una lira ma hanno degli sforzi a volte davvero grandi per portare i contenuti e tra questi vorrei nominare perché abbiamo chiacchierato la scorsa settimana Marco Carrara che si occupa personalmente di fare la traduzione e l'aggiornamento in italiano dei log della stazione spaziale che sono enormi da un punto di vista quantitativo sono tanti e sono ciascuno centinaia e centinaia di parole uno sforzo enorme che va avanti da anni e abbiamo dato le statistiche uno dei articoli meno letti purtroppo capisco anche perché si tratta di qualche cosa veramente di nicchia però sappiate che esiste su Astronaut News questa cosa amici ascoltatori potete andare usare il motore di ricerca di Astronaut News e scoprire ogni dettaglio di quando un certo astronauta ha fatto quel certo sperimento o ha sistemato o montato quel certo rack o un certo strumento a bordo della stazione e tutto in italiano è fatto veramente bene quindi spesso non una ma due lance in favore dei lavori come quello di Marco che fa una crescita dell'onda di altri pistola che magari scrivono di BIM però assolutamente fa un lavoro di collezione storica invidiabile e chapeau quindi andate a dare un'occhiata anche agli articoli di Marco e magari lasciate un commento perché fa davvero senza nulla togliere agli altri però è uno di quelli più in ombra ma che davvero si fa un bel paio piccolone quindi grazie Marco anche da me in diretta molto contento ok possiamo chiudere così la questua e dare spazio alle rubriche della nostra del nostro podcast la prima come sempre sono le storie di nonno Apollo arriva anche la sigla arriva anche la sigla giuro Ariane 5 è l'attuale lanciatore pesante dell'Agenzia Spaziale Europea un vettore molto affidabile a cui sono state affidate anche missioni prestigiose per esempio nell'ambito del programma della stazione spaziale i lanci del cargo automatico europeo ATV oppure è prevista anche la missione altrettanto prestigiosa del lancio del telescopio spaziale James Webb della NASA nel 2018 a cui contribuirà appunto con questo volo l'Agenzia Spaziale Europea ma la lunga carriera di questo lanciatore pesante iniziò nel modo peggiore iniziò proprio con un incidente nel suo volo inaugurale di cui alcuni giorni fa è caduto il ventesimo anniversario il 4 giugno del 1996 si disintegrò in volo il primo esemplare di Ariane 5 nella missione nel volo 501 che avrebbe dovuto mettere in orbita quattro satellite dell'Agenzia Spaziale Europea quattro satelliti geofisici del programma cluster a 37 secondi dal lancio dalla base di Curu nella Guiana francese il razzo iniziò una brusca variazione di assetto che di circa 90 gradi che iniziò a sottoporlo in quella fase del volo a una forte pressione aerodinamica raggiungendo quasi la velocità del suono cominciò a disintegrarsi e poi venne definitivamente distrutto dal sistema automatico di autodistruzione dal sistema di terminazione del volo che lo fece esplodere e distruggere per capire quali furono le origini le cause tecniche di questo incidente bisogna andare un po' indietro nello sviluppo di questo lanciatore e soprattutto nelle tendenze nell'evoluzione dell'ingegneria del software di quegli anni già dall'inizio degli anni 80 nel settore del software dell'informatica si era cominciato a parlare molto di riutilizzabilità del software era nata la programmazione ad oggetti che aveva tra i suoi punti cardine proprio la riutilizzabilità del software per ridurre i costi di sviluppo e quindi consentire la creazione di sistemi software portabili e comunque di costo inferiore nel caso di arian 5 era stato riutilizzato una parte del software sviluppato per la precedente versione di questo lanciatore arian 4 software scritto nel linguaggio di programmazione ad in particolare era stato riutilizzato il software per la gestione della piattaforma inerziale del lanciatore cioè l'insieme il sistema di sensori di sistemi di calcolo che mantengono la posizione la direzione e l'orientamento del lanciatore fanno parte del sistema di navigazione era stato conservato era stata mantenuta anche una parte di questo software di gestione della piattaforma inerziale che però non sarebbe stata utilizzata nei voli di arian 5 che disponevano per i quali si utilizzava una procedura diversa per l'allineamento della piattaforma cioè l'inizializzazione con arian 4 c'era una serie di procedure di allineamento cioè di inizializzazione della piattaforma per tenere conto per esempio di rinvii del lancio che avrebbero dovuto richiedere quindi nuove condizioni di posizione velocità e orientamento del vettore con arian 5 invece questa procedura era diversa e quindi quella parte del software non era utilizzata in questo caso c'erano una serie di controlli nel software di arian 4 di gestione della piattaforma che erano stati eliminati non erano stati comunque aggiunti nel software corrispondente per arian 5 per esempio delle asserzioni come si dice nel gergo informatico cioè dei controlli del valore di alcune variabili una di queste variabili era l'accelerazione orizzontale del lanciatore che in arian 5 era enormemente maggiore del lanciatore precedente e meno potente arian 4 durante quel volo del 4 giugno del 1996 il volo 5 0 1 il vettore arian 5 subì delle accelerazioni orizzontali cinque volte maggiori di quelle previste per arian 4 di cui il software riusciva a tenere conto che non causavano problemi nel caso dell'arian 4 queste accelerazioni maggiori generarono un overflow nella conversione tra una variabile a 64 bit a virgola mobile a un'altra a 16 bit intera quindi mentre la variabile di 64 bit era sufficiente per rappresentare questi valori l'altra variabile convertita quella che doveva ricevere questo valore a 16 bit intero non era invece in grado di rappresentarla questo generò dei valori completamente arbitrari nel sistema di controllo e di navigazione che fece fare dei bruschi movimenti ai motori agli uccelli di scarico per compensare delle accelerazioni che in realtà non erano reali erano soltanto dovute a un errore di conversione questo fece modificare bruscamente l'assetto come vi accennavo del lanciatore facendolo piegare di circa 90 gradi e quindi innescando la disintegrazione aerodinamica iniziale e poi la terminazione con l'esplosione del sistema di controllo e terminazione del volo questa in sintesi la causa tecniche ma oltre alle cause tecniche ci fu una serie di errori di management di gestione del progetto non soltanto il riutilizzo di una parte di software che non era prevista per questo volo ma anche la mancata verifica e simulazione di questa parte del software dei sistemi di bordo con i carichi simulati con le accelerazioni simulate previste per Ariane 5 e in effetti in fase di analisi dell'incidente eseguendo questa simulazione si ricostruirono esattamente le fasi della distruzione di questo volo di Ariane 5 quali furono queste conseguenze tecniche e gestionali beh intanto questo bug questo errore software è stato uno degli errori più costosi uno dei bug più costosi della storia dell'informatica si è valutato in circa 370 milioni di dollari il danno causato da questo bug ma poi si cominciò a porre all'attenzione del pubblico questo incidente clamoroso cominciò a porre all'attenzione del pubblico e insomma di chi deve gestire sistemi complessi la pericolosità di software del software i rischi dovuti al software che si trova a gestire sistemi tecnologici altamente complessi NAP proprio in quegli anni nella seconda metà degli anni 90 alcune tecniche di ingegneria del software per la verifica statica come si dice in gergo informatico del codice sorgente di un programma quindi di un sistema software e quindi con questo incidente in un certo senso vedendola con il lato positivo da questo incidente come si cerca sempre di fare si sono imparate molte cose tra cui anche delle tecniche che si sono rivelate utili proprio anche nell'ingegneria del software quindi si cerca di imparare in tutti gli incidenti e ha insegnato qualcosa anche questo incidente così clamoroso di Ariane 5 i satelliti cluster non furono inseriti in orbita in quella missione del 1996 riuscirono ad andare nello spazio portati questa volta da un lanciatore russo Soyuz nel 2000 i satelliti della costellazione cluster che credo che siano ancora in orbita e operativi e gestiti dall'agenzia spaziale europea anche per questo episodio è tutto l'appuntamento e alla prossima storia di Nonno Apollo doveva partire il gong doveva partire il gong guarda il Michael come gongola e gong guarda il Michael come gongola no gongola in realtà stavo pensando sta bene il jingle lì alla fine dell'intervento di Paolo e invece no e invece no fail fail da parte del regista di turno Paolo io ti giuro che ho parlato di Ariane 5 ho fatto lo spoilerone prima di vedere che era scritto chiaro nel trello non è un problema anzi non è stato uno spoiler ma un teaser perché abbiamo avuto modo di approfondire cosa è accaduto in questo incidente e ne parleremo ancora più avanti altro teaser grazie Paolo peraltro ti dirò che quando vorrai o potrai accettare un invito al tour VIP di ESO ti porto a vedere quello che resta di recuperato sono stati recuperati alcuni resti di uno dei quattro cluster a bordo di questo Ariane 5 ed è messo in bella mostra in una bacheca trasparente di vetro trasparente di fronte alla control room di Rosetta Mars Express e cluster visto un monito per tutti gli addetti al settore spaziale a non ripetere certi errori ed è infatti da quelle specie è nato scosse che adesso da tanto infatti volevo giusto dire che da allora il software in ambito spaziale europeo è perfetto e sì diciamo che questo volo 501 è diventato poi un case study non soltanto nell'ambito dell'informatica ma anche di tutti i settori dell'ingegneria penso che la storia di Ariane 5 mi sia stata raccontata da due o tre professori durante il corso di ingegneria informatica a Milano poveracci poveracci e va bene insomma d'altra parte dici tu Paolo gli errori servono soprattutto ad imparare la stessa mentalità con cui si è approcciato all'analisi delle misfortune di Hitomi che vengono commentate abbondantemente anche in ESA non perché ci è stato chiesto ufficialmente di farlo ma perché purtroppo cerchiamo di fare esperienza anche con gli errori degli altri purtroppo per loro naturalmente non siamo contenti che i colleghi abbiano perduto la mission ma quando capitano queste cose se ne fa tesoro e in ambito spaziale di problemi ne abbiamo visti davvero tanti va bene so che ci sono i famosi astronauti quiz che ormai hanno preso piede Paolo amoroso ci dica la soluzione dello scorso astronauti quiz beh intanto ricordiamo la domanda poi parliamo della risposta esatto vai vai Paolo la domanda è chi è stato il primo astronauta a consumare un pasto nello spazio e qual è stato questo pasto allora definiamo innanzitutto cosa intendiamo per consumare un pasto definiamo inghiottire del cibo masticarlo regolarmente insomma ingegnerlo regolarmente e basta in modo che il cibo rimanga all'interno portate pazienza perché vi spiegheremo perché siamo facendo questa precisazione secondo questa definizione il primo a consumare un pasto è stato l'americano l'astronauta americano John Glenn del programma Mercury nella sua missione Friendship 7 la prima missione orbitale degli Stati Uniti nel 1962 e mangiò riuscì a mangiare della mousse di mela in questo suo primo pasto nello spazio se invece utilizziamo un'altra definizione di consumare un pasto cioè di ingerire qualche cosa che poi viene anche espulsa con sistemi tipo il vomito allora il primo che ha consumato un pasto è stato il cosmonauta sovietico German Titov nella missione Vostok 2 nel 1961 che ne abbiamo parlato anche nella rubrica di Nonno Apollo tra i record non ha avuto soltanto il record di durata perché la sua missione per l'epoca fu un record di durata con poco più di 24 ore di presenza nello spazio di permanenza nello spazio ma fu anche il primo a subire i sintomi del mal di spazio per un periodo di tempo piuttosto prolungato quindi questo pasto non riuscì a mangiarlo a digerirlo completamente ok e spero penso che tu Paolo abbia già sotto mano anche il nuovo astronauti quiz io no ma se ne avete voi possiamo proporlo allora me ne preparo uno prima della fine della puntata nel frattempo andiamo dritti all'ultima delle rubriche del nostro podcast vediamo un'occhiata al cronometro ti avevo promesso un'ora di divertimento ho raggiunto l'obiettivo compresa la mia buona dose di strafalcioni e stupidaggini e allora passiamo ai link della settimana chi inizia vai tu Riccardo dai allora mentre stavo popolando diciamo così la nostra pagina facebook ogni tanto mi metto anche a segnalare i passaggi della ISS visibili ed eventualmente i transiti di essa davanti alla luna o al sole mi sono imbattuto proprio oggi in un sito che serve per calcolare questo tipo di transiti normalmente cioè per mia esperienza i software che avevo usato per il calcolo o i siti che avevo utilizzato per il calcolo erano un po' macchinosi nel senso un addetto ai lavori un appassionato come noi ci riesce a saltare fuori tranquillamente però questo nuovo sito che ho trovato questo ISS Transit Finder è veramente for dummies cioè uno mette le coordinate mette insomma una data sulla quale vuole fare la simulazione e in maniera molto chiara e semplice vengono visualizzati i possibili passaggi e chiaramente bisogna avere un'avvertenza questi transiti davanti al sole alla luna soprattutto se volete fare delle foto si trattano di eventi che durano 1, 2, 3 secondi in base all'altezza del sole della luna quindi fare una simulazione tipo una settimana due settimane prima potrebbe dare delle piccole discrepanze sul momento esatto del transito della ISS davanti all'astro preso in considerazione poi considerate che l'ISS magari farà un rebust sono piccole variazioni che però nell'ordine del secondo possono diciamo rovinarvi la festa se volete fare una foto quindi può anche essere non una questione di tempo ma di chilometri potrebbe essere che il transito accadrà ma non esattamente dove lo calcolate oggi quindi se trovate il vostro prato in campagna perfetto per catturare il transito magari se c'è una settimana di mezzo c'è un rebust della stazione spaziale il transito avverrà comunque ma a 4 km a est esatto nel corridoio non molto largo è utile avere l'informazione precisa anche della centerline insomma del punto migliore dove vi potete piazzare per vedere questo transito il sito potete andarlo già a vedere da subito quando vi andrete a leggere le note dell'episodio magari potete fare una simulazione per qualche giorno qualche settimana a venire per prepararvi però vi consiglio il giorno prima di rifare la simulazione stessa per avere i parametri più precisi possibile bello bello carino perfetto Paolo giusto per restare in tema stasera non ne abbiamo parlato di cosa riguarda invece il tuo link torniamo a parlare di Ariane 5 per proporvi un video del lancio di questo volo inaugurale dell'incidente di Ariane 5 del volo 501 del 1996 in questo breve video di poco più di un minuto e mezzo si vede il lancio dell'Ariane 5 e si notano soprattutto due cose la prima è facile cioè si nota lo stupore dei controllori di volo e di quelli che hanno assistito al lancio lo stupore e la delusione poi per questa esplosione in volo ma poi invito anche il vostro occhio da geek spaziali a notare le fasi della distruzione vedrete in questo video che il razzo comincia a piegarsi quasi in 90 gradi e cominciando a perdere pezzi a distruggersi per le sollecitazioni aerodinamiche e noterete anche il vostro occhio geek dovrebbe notare verso lo stadio superiore un breve lampo di luce che dovrebbe essere l'accensione secondo me così lo interpretato di un thruster di un motore d'assetto che cerca di compensare le indicazioni erronee non reali che arrivavano da questa piattaforma inerziale impazzita per modificare una traiettoria che in realtà non aveva problemi e quindi a piegare il razzo nella direzione poi che avrebbe portato alla distruzione è una cosa molto interessante da seguire facile da ricostruire cioè da capire ora che sappiamo come sono andate le cose non ho capito in quale minuto in quale minuto poco prima dell'esplosione o stavo cercando questo lampo sì quando comincia a piegarsi dall'assetto nominale di volo no ecco poco prima del momento che hai mostrato un lampo un puntino di luce nella parte superiore del razzo che almeno credo che si possa interpretare in questo modo tra l'altro questo filmato ci fa apprezzare tantissimo i 1080p sono ormai quasi uno standard nelle riprese di lanci spaziali purtroppo nel 99 non 96 96 grazie Paolo non era esattamente quello di cui ci si poteva e poi abbiamo avuto ci sono stati anche problemi di riversamento non so se questa ripresa sia stata analogica o digitale in origine poi nel caricarla su youtube c'è un interlacciamento notevole che si nota nelle cose che si spostano in orizzontale per fortuna che i razzi normalmente vanno in verticale quando i loro le loro piattaforme inerziali non danno i numeri no tra l'altro secondo me è preso questo da un servizio tv perché subito dopo queste immagini vengono riprese i volti anche traumatizzati si è un montaggio delle persone che erano presenti all'altro va bene allora è arrivato il mio turno l'avevo annunciato prima vedo che Riccardo è stato bravissimo l'ha trasformato in un vero e proprio link della settimana parlo del pdf della presentazione di questi due ingegneri NASA che hanno illustrato quello che era un po' il roadmap e le aspettative gli obiettivi per i programmi legati ai moduli espandibili e ha attirato moltissimo al mio occhio la solita roadmap proprio perché ci dimostra quanto a volte ci possono essere un po' di ritardi tra i tempi programmati e quelli poi effettivamente osservati di un programma per esempio l'azione di quello che può essere il nostro modulo BIM sulla sulla ISS era prevista per 2012-2013 quindi siamo tra i 3 e i 4 anni in ritardo ma tutto il contenuto rimane validissimo vedete se avete la possibilità di leggere in inglese vedrete come praticamente col modulo BIM si sono realizzati i 3 quarti degli obiettivi che questi due ingegneri si erano preposti al momento della loro presentazione quindi al di là dei ritardi un messaggio di fattività interessante e come vi ho detto tanti tanti su forum astronautico si era discusso della composizione di questa stoffa chiamiamola così del materiale del rivestimento del modulo BIM quali e quanti sono questi strati beh c'è naturalmente un brevetto di Bigelow che non ci consentirà molto presto di scoprire i dettagli più raffinati ma su questa presentazione trovate qualche idea e quantomeno una descrizione sommaria di cosa sia stato utilizzato per realizzarlo e quindi lo trovo un documento particolarmente interessante poi Paolo tu dicevi che il software è stato scritto in linguaggio ADA lo stesso linguaggio peraltro utilizzato per il software di controllo di almeno due dei computer e allora da dove arriva questo nome naturalmente deriva da è un omaggio ad ADA Loveless è una delle più belle biografie che io da avido ascoltatore di podcast ho incontrato negli ultimi anni è quella fatta da Carlo Becchi e tra chi tra i nostri ascoltatori quella straordinaria bellissima trasmissione che è stata in podcast tecnica arcana di Carlo Becchi vi do l'occasione ho ascoltato di andare a dire la straordinaria vita e le imprese inaspettatamente vittorianamente tecnologiche legate alla figura di ADA e capirete perché le è stato dedicato un intero linguaggio di programmazione e tra l'altro vi do l'occasione di scoprire tecnica arcana che è sospeso perché Carlo come ha deciso di cambiare completamente e non ha più trovato il tempo di produrre uno dei migliori a mio personale parere il miglior podcast di tecnologia che abbia mai preso vita in Italia è stato poi Carlo il cofondatore di Digitalia oggi da Franco Solerio e da un'ottima crew di presentatori ma davvero tecnica arcana occupa un posticino speciale nel mio cuore allora ho il link della settimana anche qui da noi e vorrei aggiungere che nonno Apollo in uno dei suoi momenti di informatica vintage ha giocato con un compilatore ADA commerciale da pochi dollari peraltro e scrivendo qualche riga di codice è un linguaggio di programmazione molto interessante molto moderno per l'epoca molto avanzato per l'epoca è davvero un linguaggio che mi era piaciuto questo Paolo mi ricorda è davvero è un angolo questo qui dove ci servirebbe la musichina marcord ma non oso mettere le mani sul downboard perché ho già fatto errori a Iosa stasera mi ricorda come ho fatto il tuo recruitment o meglio come ho fatto la tua conoscenza per la prima volta e avevo trovato il tuo nome su una mailing list dedicata al linguaggio Lisa se non ricordo male o Lisp scusa è stato lì che sono riuscito a fare a voi il piacere della tua conoscenza e poi portarti dentro tutto il giro dei matti qua va bene stiamo arredo vuoi fare tu la Veronica e parlare appropriare il suo cario e raccontarci un po' cos'è il calendario si molto rapidamente abbiamo ancora in partenza il delta 4 heavy che in teoria doveva essere già decollato però problemi al meteo ora danno il 30% di chance di go ci sono poco meno di 3 ore per la finestra di lancio insomma probabilmente per chi ascolterà il podcast se decolla stasera non avranno l'occasione di vederlo per chi invece magari ci ascolta in diretta magari buttate un occhio perché il lancio di un delta 4 heavy è sempre molto spettacolare soprattutto per le fiamme che si sprigionano all'inizio del lancio poi qui qui con noi abbiamo i soliti raccomandati che sono riusciti a vederlo anche dal vivo un lancio del delta 4 heavy se non mi ricordo male giusto quando eravate andate a vedere era un delta 2 era un delta 2 pensavo un delta 4 vabbè sì ce l'abbiamo visti prima il giorno prima di vedere va bene allora per chi vuole chi vuole aspetta un attimo che chiudo è diretta sul sito di Hula sì esatto e invece per per il resto della settimana abbiamo il lunedì 14 Chignus lascerà la stazione spaziale probabilmente avremo un lancio SpaceX quindi da sempre da Cape Canaveral sempre per un satellite di telecomunicazioni geostazionario quindi insomma le premesse sono le solite come come sempre vedremo se riusciranno a fare un altro recupero del primo stadio per aumentare diciamo la serie positiva e poi Veronica segnala due convegni uno presso l'agenzia spaziale italiana che si chiama i dieci anni di MRO e un convegno Spazio Italia con l'intervento di Maurizio Cheli abbiamo ne abbiamo parlato anche sul forum che abbiamo l'organizzatore che ci sta tenendo informato sul ci ha tenuto informato via via che la scaletta degli eventi dei panel si riempiva e quindi potete anche se siete in in zona Roma poter assistere a questo evento giovedì prossimo ci risiamo noi quindi ci riaggiorniamo tra una settimana ok grazie Riccardo perfetto e io intanto mi sono andato a rep quiz della settimana allora il senatore Jack Garn un repubblicano dell'Oiluta è stato un payload spordo della missione shuttle STS 51D chi è stato questa è la domanda il secondo parlamentare a volare a volare di una missione space shuttle così vi andate un po' a sfogliare i vostri appunti le vostre agende quindi credo sia semplice questa volta rispondere nel senso che la domanda non lascia spazio a possibili senatori che hanno fatto un mezzo volo ma o sì o no e non potrete rispondere perché mi pare che Mike Blaine non riveli dei due è quello che era così interessato al portale di apertura verso lo spazio esterno dell'airlock dello shuttle tale per cui da allora c'è un lucchetto c'è stato un lucchetto per tutte le missioni successive qualcosa di simile Paolo magari che sa memoria riding rockets magari mi correggerà no ma è raccomandato riding rockets ai nostri ascoltati come must molto colorito del programma spaziale immagino di sì ma se non lo avete ancora letto andate a darmi un'occhiata riding rockets di Mike Blaine va bene vediamo se riesco a lanciare la sigla per i saluti senza sbaccare tutto il setup immagino di sì va che si sente ok siamo arrivati davvero in conclusione sono state circa un'ora e diamo una per essere precisi un'ora e 22 minuti di divertimento sono stato contento di tornare alla regia anche se gli strafalcioni hanno fatto vedere per quanto sono rimasto lontano andiamo a salutare tutti i co-host di questo bellissimo episodio partendo da Riccardo Rossi da Modena via ciao ragazzi è stato un piacere ritornare ai microfoni di Astronauticas e ci vediamo la settimana prossima ci sentiamo la settimana prossima ciao ciao siamo a Milano dal nostro Paolo Amoroso Nonno Apollo da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forum astronautico punto it Dulcis in fundo il master il regista titolare che davvero sono contento di poter dare una mano ogni tanto il nostro Michael Sacchi da Monaco di Baviera ringraziano tantissimo Marco perché questa sera non ce la potevo fare e avrei fatto molti più strafalcioni di quelli che faccio di solito più quelli che fa Marco più quelli che faccio di solito io moltiplicati per due quindi grazie Marco per aver preso il timone e io vi do appuntamento insieme agli altri a giovedì prossimo e mio grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la bontà di seguirci fin qui un ciao a Veronica e a Luigi che stasera non erano con noi ma che aspettiamo naturalmente ai prossimi appuntamenti con Astronauticas ci sentiamo la settimana prossima e fino ad allora ad Astra ciao a tutti